No, no! Oggi ci troviamo al campo, qui di preciso alla Zilla, ma faremo un incontro con le ragazze, le nuove giocatrici che faranno parte di questo nuovo progetto che si chiama Pink Arzilla. Sono venuta molto volentieri a far parte di questo progetto perché penso che sia il momento di dare l'opportunità a queste ragazze di giocare e di investire nella propria passione che è quella del calcio femminile. Oggi faremo semplicemente una seduta di allenamento dove ci si diverte, dove in primis c'è questa passione, questa voglia di stare insieme e di divertirsi. Dopodiché ho fatto un regalino a ognuno di loro in modo tale che possano semplicemente continuare a sognare e chissà perché, e chissà magari arrivare anche ad un livello alto. Un ringraziamento a tutte le persone che credono, che investono del tempo in questo sport, che è il calcio femminile. Soprattutto un ringraziamento a Francesco Martucci, che è l'ideatore del progetto. L'invito è quello di partecipare per fare in modo di creare questa bellissima squadra e permettere quindi di giocare a calcio, in questo caso a calcio femminile. Quindi invito tutte le ragazzine a venire, a presentarsi con i propri genitori, perché è nato il progetto e il progetto, lo ripeto, si chiama Fincarzilla. Un abbraccio a tutti e alla prossima!